Il riforma della sentenza emessa dalla terza corte di assise di Romanchi, andata a 5 giugno 2013, assolve Fierro, Corbi, Bruno, De Marchi, Spreide, Di Carlo, perché il fatto non sussise e li ha di loro ascritti. Gesù Cristo è morto di freddo, dentro all'ospedale, anche il giudice è stato convinto, fino in tribunale. Gesù Cristo è morto di freddo, in mezzo ai Suoi assassini, messi in croce ma protetti dall'alto, dallo Stato in primi. Non ho capito bene, La colpa è della fame Si uccide senza una ragione Prima ci ammazza, poi ci prendono in giro Prima ci ammazzano, poi ci prendono in giro Prima ci ammazzano, poi ci prendono in giro Prima ci ammazzano Gesù Cristo è morto di freddo, la colpa è del dottore Prima nizione era il termine giusto, ma è la giustizia che muore Non ho capito bene Non ho capito bene La non curanza è male Ma le ossa non ti può spezzare Prima ci ammazzano, poi ci prendono in giro Prima ci ammazzano, poi ci prendono in giro Prima ci ammazzano, poi ci riammazzano Quando infangano Prima ci ammazzano, poi ci prendono in giro La verità 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 Grazie a tutti